Ciao, mi chiamo Laura Steimer, sono del Sciclop Ice Sexy Esortal e oggi ho vinto l'OGP e sono molto contenta, non me l'aspettavo. Racconta un po' com'è andata la gara, la difesa, tu o te? Dopo la prima munch, non me l'aspettavo che vinci l'OGP perché è andata malissimo, però la seconda munch è andata molto bene. E la pista e le condizioni com'erano? Erano buonissime.